Tempo e spazio 2, le coordinate alla base della ricostruzione dell'accusa. L'omicidio di Guerrina Piscaglia si sarebbe consumato tra le 13.46 e le 14.34 lungo la Mare Chiese il 1 maggio 2014. 48 minuti, questo l'arco temporale del delito indicato dagli inquirenti, inquadrato grazie all'ultimo contatto telefonico di Guerrina Piscaglia con il religioso delle 13.46 e la testimonianza di Loretta Paolucci con la quale il frate si fermò a parlare. alle 14.34 o radio confermato anche dai tabulati telefonici. Ed è proprio in questa Firenze temporale che si inseriscono gli ultimi avvistamenti, entrati nell'aula della vela nel corso dell'ultimo udienza del processo a padre Graziano. Una vicina racconta di aver notato Guerrina lungo la Mare Chiese tra le 14 e le 14.15, invece un uomo in aula ha ricordato di averla vista tra le 13.30 e le 13.45 appena fuori l'abitato del paese, in direzione Rimini. Marito e moglie, chiamate a deporre, hanno invece detto di averla vista, i bidoni della spazzatura tra le 14.15 e le 14.30, stesso avvistamento anche per un altro testimone che però allarga la finestra temporale fino alle 14.45. La prova che Guerrina fosse stata individuata in quella strada alle 14.30 ci consente di dire che se padre Graziano è stato individuato lì alle 14.34, cioè l'orario in cui la Paolucci Loretta ha ricevuto il messaggio nel suo telefonino, ora mi dica al pubblico ministero, dica al pubblico ministero quando padre Graziano avrebbe potuto assassinare la povera Guerrina. Quindi mi è difficile individuare questo momento, anche perché successivamente padre Graziano è stato insieme a Mirko, il marito di Guerrina, e quindi è difficile pensare che in un attimo, in un secondo, che nessuno ha visto abbia potuto fare quello di cui viene accusato. No, diciamo che concidono quasi tutti, qualcuno ha dato una forchetta temporale un pochino più ampia, di conseguenza, ma credo che sia, tutte le persone, se chiediamo a che ora ha pranzato ieri l'orario, il minuto e il secondo, non sappiamo rispondere, quindi possiamo dare delle forchette. C'è chi dà una forchetta temporale di 30 minuti, c'è chi la dà di 45, c'è chi la dà di un'ora, quindi non credo che gli orari stanno coincidendo, cioè si parla delle 13, un quarto alle due, un quarto alle tre, è questo l'orario della scomparsa. Sono comunque a combaciare con la ricostruzione fatta dal PM? Assolutamente sì, per ora stanno combaciando.